Wine Soundtrack Educational Impara con noi a muoverti tra i termini più diffusi e utili nel mondo del vino Ascolta il termine di oggi Organolettico Designa la qualità o le proprietà relative ad un vino che possono essere percepite e valutate dagli organi di senso durante la degustazione Ad esempio il colore, l'odore e il gusto del campione in esame, sinonimo di sensoriale Hai trovato utile il termine di oggi? Segui Wine Soundtrack su Facebook, Instagram e Twitter